Lo sguardo degli studenti sulla nostra città con i suoi punti di forza e le sue ombre, con le sue bellezze e le sue potenzialità. Polis, mai senza l'altro, questo è il tema che ha animato il concorso fotografico che il Festival Biblico ha dedicato alle scuole. Un'iniziativa organizzata in collaborazione con il MIUR, l'Associazione Rivela, l'Ufficio Scolastico della Diocesi, il Centro Culturale Santa d'Alberto, i Missionari Conboniani e la Libreria delle Paoline. Hanno partecipato quest'anno 600 ragazzi da tutta la provincia attorno al tema del Festival Polis, sviluppato secondo il tema che era quello fotografico, quindi sia la parte della convivenza civile, quindi l'accoglienza, tutti questi temi, e la parte anche del territorio, quindi come preservare il territorio, come intervenire con le forme architettoniche, tutti questi temi sviluppati attraverso una serie di fotografie. Che valore ha proporre ai più piccoli, ai ragazzi delle scuole, un concorso come questo per affrontare i temi del Festival, visto che è la seconda edizione? Diciamo che è un valore straordinario, perché i ragazzi hanno la possibilità di lavorare sul tema del Festival mesi prima, quindi loro fanno un lavoro, il lavoro che faranno le persone che verranno a visitare qui il Festival in questi giorni, i ragazzi l'hanno già fatto, quindi fondamentalmente sono loro gli esperti del Festival, loro i loro professori. Potrebbero loro raccontare in questi giorni cos'è il cuore del Festival, cos'è il cuore del tema che abbiamo affrontato quest'anno, e quindi è uno strumento interessante appunto per questo, perché si fa lavorare i ragazzi per un periodo abbastanza lungo su un tema che è quello che sta a cuore a tutti, insomma. Quattro gli ambiti del concorso, comunità, prossimità e accoglienza, rapporto tra abitare e costruire, libertà e vita insieme, ed il premio speciale giuria di cui i vincitori sono stati gli alunni della quinta superiore dell'IT Silvia Ricci. In tutti i partecipanti però grande entusiasmo e creatività, come ci hanno confidato questi ragazzi di prima media dell'IC9 Valdonega. Come è stato partecipare a questo concorso? Eccitante Divertente Che cosa avete raccontato Greta? C'è un discorso di mai senza l'altro, quindi abbiamo cercato di fare delle foto che rappresentano mai senza l'altro in qualche parola. Con l'immagine che cosa volete raccontare? L'amicizia La vostra foto che cosa raccontava? Descrivetemela L'intreccio di due popolazioni dell'uguaglianza tra l'umanità È stata un'occasione di fare un'attività didattica e di diversa alternativa, però in modo tale da metterli a conoscenza anche di realtà e di argomenti che effettivamente un conto è soltanto viverli in modo passivo e alternativo, anche guardando o leggendo. Un conto invece è mettersi in gioco e cercando di realizzare delle cose, come in questo caso era una mostra fotografica che dava la possibilità attraverso uno scatto di carpire appunto dei momenti salienti e particolari legati proprio al diritto, all'integrazione, ai diritti umani in questo caso.